Questa è una delle zone della città che negli ultimi anni è andata sott'acqua diverse volte, proprio per questo nei giorni scorsi come Regione del Veneto abbiamo stanziato quasi 180 mila euro che serviranno per la messa in sicurezza di questa importante area della nostra città. Quindi un intervento puntuale e concreto e ovviamente sono fiducioso che quanto prima i residenti, i cittadini di questa via non si troveranno più in situazioni di pericolo, di paura a causa degli eventi atmosferici. Arrivano 175 mila euro di contributo dalla Regione Veneto per la messa in sicurezza di via Minardi nel quartiere di San Michele, una zona che in passato ha subito frequenti allagamenti che hanno riguardato molte abitazioni. A dare notizia del contributo è il Vice Presidente del Consiglio Veneto Nicola Finco che conferma l'impegno dell'Assessore regionale all'ambiente Gian Paolo Bottacin nell'approvazione del contributo per la sicurezza idraulica che coprirà metà dell'intervento complessivo. In questi anni in qualità di consigliere regionale mi sono sempre occupato di Bassano, di tutto il territorio bassanese e se sarò sindaco ovviamente sarà mio impegno mettere in campo tutte quelle relazioni, quei contatti che ho sviluppato a livello territoriale, a livello regionale e statale per dare risposte certe a questo territorio. Un territorio che ha tante situazioni ferme, ha la necessità di crescere ma soprattutto ha la necessità di portare a compimento le tante incompiute. Quindi sicuramente l'esperienza che ho maturato servirà per fare un salto di qualità a Bassano del Grappa e non solo.